Ehi la gente benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su Rush Wars Ebbene si siamo tornati su questo giocone dopo un bel po' di tempo che non usciva sul canale ragazzi ma l'avete visto l'avevamo anche già detto si è molto assestato Ma comunque pian piano stanno davanti c'è stato un aggiornamento nelle meccaniche di attacco e ci sono parecchie novità Oggi sono qui per un contenuto ragazzi che non capita tutti i giorni Come potete vedere ormai il foglio delle appunti affianca il tablet ormai è diventata una routine Ma passiamo alla schermata di game ragazzi perché ho un ospite da presentarvi Il suo nome è Kids e prima ancora di farlo parlare ragazzi perché in questo video lo sentiremo parecchio parlare Voglio farvi vedere come lo possiamo trovare Guardate basta premere il tasto della classifica ed esce subito Sta infatti primo sia in Italia Aspetta in Italia non sei neanche segnato È segnato primo al mondo comunque quindi vi garantisco che è anche primo in Italia ragazzi Durante il corso del video vi lascerò in sottofondo delle partite in cui ho appunto provato questo nuovo sistema di attacco E nel frattempo vi chiedo come sempre un big pollicione su ragazzi mi raccomando con sotto spaccate il like Ok Kids eccoci qua Allora Presentati Facci un saluto e presentati Dicci chi sei Ciao ragazzi Ciao ragazzi io sono Kid sono uno youtuber e spero di trapparvi un po' il sorriso da questa Però dai non mi spongo ancora più avanti dai per il momento Ok ok allora io parto subito con la prima domanda Visto che oltre allo youtuber parleremo anche di quello sei prima di tutto un giocatore bravissimo Io mi chiedo per aggiungere risultati come quelli che abbiamo visto poco fa sul tuo account Adesso parlerà sicuramente delle immagini Quanto giochi ogni giorno? Quanto è la tua sessione? O se salti qualche giorno non credo Ah va tutto Se devo dirti la verità la mia media giornaliera era quella del 10 ore al giorno Ma ultimamente in questa settimana se devo essere sincero ho giocato molto di più Cioè mi aggiro sulle 13-14 ore giornaliere Cioè io in genere quando mi dico io faccio 8 ore ma questa settimana mi ho fatto un po' meno Te ne hai fatte di più Allora questo si calcola che è un game un po' come dirti E nel frattempo giochi puoi fare altro che so mandarti la partita puoi fare tantissime altre cose Non è come Si è molto è molto shallow come gioco abbiamo già visto E' molto stream è molto tranquillo Diciamo che è un po' come vivere e avere sempre Rush Wars lì a fianco Si si per queste cifre si per forza Altrimenti quelle posizioni non le raggiungi Non le vai nemmeno a vedere Allora fermo un attimo però facciamo un passo indietro Come hai iniziato a giocare a Rush Wars? Allora ascolta mi trovavo in live e qualche mio iscritto mi ha detto Giz ma sei uscito Rush Wars io l'ho scaricato dopo tre giorni dell'uscita E addirittura dopo una settimana di averci giocato mi trovavo nella top italiana Se non sbaglio prima in Italia Quindi tanta roba Onesto onesto Ok e così hai cominciato ma come si è arrivato a questi punti? Cioè com'è che sei passato dall'inizio alle 12-13 ore al giorno? Allora ascolta nel frattempo giocavo guardavo la classifica Perché normalmente un player andava a guardare in automatico E vediamo che i player avversari li andavo a raggiungere e superare Raggiungere e superare Quindi mi sono detto guarda al posto di giocarci tre quattro ore giornaliere Ho aumentato un po' di più Ho veramente scalato un botto A parte comunque il giocare tanto Quello l'abbiamo capito Ma per gente normale Un paio di consigli Qualcosa che possiamo fare Nelle giocate A partire da subito per migliorare Allora Ferre secondo me La base di questo game Secondo me è soprattutto avere una buona difesa Cioè devi farci una difesa Anche se adesso con l'aggiornamento è cambiato un po' tutto Perché le difese sono random E quindi come dirti È un po' più difficile andarsi a difendere Però se ti fai una buona difesa Vai a prendere la media di 50-100 stelle In difesa giornaliere E allora si scala più in fretta Ok Quindi tu sei anche molto bravo nella difesa Questo è anche un po' il tuo segreto Cioè quello conto tantissimo Per le difese soprattutto devi gestirle in maniera perfetta Per prendere Perché a volte un personaggio ti attacca E quindi tu devi sapere Come poter difendere Adesso come ripeto è un po' più difficile Perché le difese purtroppo sono random E quindi sta tutto a cosa di dal game Sta tutto lì Ok Continuiamo a fare riferimento a quest'ultimo aggiornamento Che c'è stato E io onestamente ho sentito parecchi pareri Su questa cosa C'è gente che dice Hanno rovinato la Schwarz Gente che dice L'hanno rivoluzionato Tu cosa ne pensi? Dimmi un pochettino Se secondo te Potevano fare di meglio O effettivamente hanno fatto questa rivoluzione Del game Allora io all'inizio Devo essere sincero con te Ero molto impattitito dall'aggiornamento Perché vedevo Gli attacchi che erano totalmente random Proprio come le difese Quindi Ero un po' di tupante Di tupante ad essere sincero Ma adesso Giocandoci un bel po' Posso dirti che secondo me è meglio Perché Come me Perché anche io facevo gli attacchi Full hotshot Con l'invisibilità Ed era diventata una cosa Molto molto monotona In difesa Si vedevano solitamente I laser Cioè Sempre le solite cose Era diventato molto repetitivo Sì Upgrade alle stesse carte Ok ok Bravissimo Bravissimo Prima di cominciare Abbiamo avuto modo di parlare un pochettino E mi hai detto che Si è cominciato ad arrivare primo Al mondo Dopo un periodo di ban Cosa Cosa Come mai questa cosa Cioè Avevi effettivamente Dei competitor Che baravano un po' Eh sì In realtà sì C'era Un certo player Che non vado a fare il nome Perché No no Ci mancherebbe altro Ok Di andarlo a fare Eh sì Usava i bot Calcola che ho finito la stagione Secondo al mondo A 200 stelle 8 Ma lui Usava i bot Quindi Mi ha fatto un recupero In un giorno Di 2500 stelle E per questa Per questa faccenda Poi si è scoperto Che lui usava i bot Ed è stato bannato Ah Grazie a questa cosa Si è scoperto? Eh sì Si è scoperto in pratica Cioè Perché lui Praticamente Per batterti Ci voleva un bot Basta L'unica L'unica soluzione Tutti dicono così Poi Non so Tutti dicono così Arriva adesso Una domanda scontatissima Mi pazienza Ma tanta gente Te l'avrebbe fatta sicuramente Come prima domanda Quanto hai shoppato Su sto gioco? Perché se mi dici Che non hai shoppato Guarda Chiudiamo il video qui E allora Io in sincerità In pura sincerità Vi vado a dire Che ho shoppato All'incirca Con 500 euro Siamo lì 530 Sono lì All'incirca Sì Devo essere sincero Non mi nascondo Mamma mia È una cifra Ma Allora Qui passo direttamente Alla prossima domanda Che era Perché hai voluto fare Un vero e proprio investimento Così? E allora Perché mi trovavo Come ti ho già detto Nelle prime posizioni italiane Quindi Tra i primi In Italia E mi sono detto Guarda Vado a spendere Qualche cifra Pur di far crescere Le carte E così Entrare un po' più In competenza Con i player Più alti E pian pianino 100 adesso 50 20 10 Sono arrivato A una cifra simile Sempre restato un po' Sul tema dell'investimento Non deve essere Per forza economico È anche un po' Un discorso di tempo Tu Effettivamente Lavori Studi Cosa fai Nella vita Oltre Oltre Alla Rush Wars Allora Ascolta Io lavoro Per fortuna Il mio lavoro È un lavoro notturno Cioè Vado ad iniziare A lavorare Dalle 4 del mattino Fino alle 9 del mattino Perché lavoro In un mercato Della frutta Quindi Il lavoro è quello È in base Fai anche un lavoro Fai anche un lavoro Abbastanza Fisico Nel senso Avrai sicuramente Sì Sì Certamente sì Perché il lavoro È proprio quello Di prendere Le cassettine di frutta E andarle A depositare Nei vari camion E nei vari Sì sì E ti scappa La partitina Rush Wars Anche lì Un'intanto Sì sì Perché calcola Che da Da un camion Da un furgone All'altro Passano sempre Quei 15 minuti 20 minutini Lì Allora Già che ci siamo Cosa fai Non fai Ti parlo per esperienza Perché so Che cosa vuol dire Avere un lavoro Che ti Agevola In quello Che vuoi fare O avere un lavoro Che non ti agevola Per niente Quello è il mio caso In quello che Che vuoi fare Infatti io sono costretto A dividere Ogni giorno Proprio Youtube Da lavoro In maniera ferrea Non a caso Mi chiamo ferrea Perché altrimenti Io non Non riuscirei a gestire Quella è una cosa Da una parte importante Perché se non ho Certi livelli Sarebbe anche difficile Raggiungerli Sempre parlando così insieme E' uscito fuori Una particolarità tua Cioè che non sei un papà Ma sei un super papà Raccontaci un po' Questa cosa Eh sì ragazzi Perché Ho 28 anni E sono papà Di ben 4 figli Quasi 5 Perché c'è mia moglie Che è in attesa Nell'ottavo mese Del Si spera Del nuovo arrivato Del piccolino Quindi Quindi tu praticamente Oltre tutto Sei anche Punto papà E Quindi c'è Tu in queste 12 13 Di sessione Comunque fai il papà Effettivamente E Quindi riesci Riesci a combattere Da una parte Culi il bimbo E dall'altra Ci scappa Sei veramente Fantastico Posso dirti Posso dirti Che Da quando è nato Mio figlio il grande Cioè che ha 10 anni Salvatore E' cambiata totalmente La vita Perché io ero un ragazzo Che avevo dei sogni Ad esempio Volevo diventare calciatore Era una mia passione Ma da quando è nato lui E' cambiato tantissimo La mia vita è totalmente cambiata Quindi dedico la mia vita A loro Sì esatto Non Cioè non c'è cosa più bella Ferre credimi Di avere Di avere dei figli Che quando torni a casa Anche perché ormai Cioè ma ormai Cioè scusami Cosa fai il calciatore Che con questo qua Hai già fatto una squadra di calcetto Cioè hai già Cioè hai già la squadra di calcetto fatta Sei a posto Cioè Quindi il calciatore Comunque lo puoi fare Fai l'allenatore Semplicemente Tutto lì E dalla panchina Ti fai un attacchino Su Rush Wars Già che ci sei Anche perché Anche perché calcola Che nel Che se non sbaglio Il lunedì Il giovedì E il venerdì Vado a fare gli allenamenti Al pallone Perché gioco In prima categoria Quindi è un po' La mia vita Ah giochi anche Giochi anche A un buon livello Qui d'oltre tutto Ah giochi anche Vabbè dai Lasciampe Ho capito che Sei di nuovo Un personaggio Che non si ferma mai Avviamoci alla conclusione E ovviamente Anche qua non potevo Farti questa domanda Perché ti sei presentato Così E tu Nel brodo In tutto Sei anche Uno youtuber E Ho visto il tuo canale Hai già qualche mille Di iscritti Anzi io vorrei darti la mano Quindi Ricordo a tutti quelli Che stanno guardando questo video Che in descrizione Ci sta il link Al tuo canale Ma Dimmi un pochettino Cioè Parlami un po' del tuo canale Che progetti hai Cosa c'hai in mente Ti lascio ruota libera Allora Se devo essere Se devo essere sincero Tutto inizia due anni fa Cioè Ho iniziato due anni fa Con youtube E l'ho preso Come un piccolo sostegno in più Per Per riuscire a girare Come ditti Perché c'è stato un periodo Un po' bruttino Della mia vita E quindi Ho deciso di buttarmi anche lì Tutto sommato Dopo il primo mese Dopo il primo mese È successo Quello che è successo Sono cresciuto All'incirca Di 300 iscritti Guarda Mi davano un supporto Anche Come dirti Morale Sì 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 Quello è importantissimo Mi prendeva Sto fatto Di andare a registrare Quei 15 minuti al giorno Per portare Ah è quello Quello che ti fa Che ti fa partire Effettivamente Perché All'inizio Di sicuro Youtube A livello monetario Non ti dà Niente Però avere qualcuno Che ti guarda volentieri È quello Che fa la differenza Guarda Guarda Io Non ho obiettivi Nel senso che Se vado a fare Youtube È proprio perché Adesso è diventata Una passione Non Non vorrei essere Presuntuoso E dire Vorrei raggiungere Il milione Perché quella è una cifra Che tu Lavorandoci sopra Oggi e domani Raggiungerai solamente Se Come hai detto bene tu Ferre Se il lavoro Ti prende Perché non puoi fare Un lavoro dove Tu fai tutto per soldi Perché La carriera Secondo me Assolutamente Assolutamente Quello che Mi rendo Conto Quello che noto Andando avanti Comunque sia Vedendo che Youtube Per me sta diventando Sempre un qualcosa Che è più legato Alla mia vita E che Nel momento in cui Qualcosa non mi appassiona La La lascio completamente Perdere Perché Tanto so che Non mi porta da nessuna parte Perché Esatto Esatto Quindi deve essere Secondo me Una cosa che senti dentro Non Quello è importante Anche perché Comunque sia il pubblico Vede Il pubblico giudica Quindi se qualcosa Poi è forzato Esce fuori da solo E Kids Io Ti posso solamente ringraziare È stato un piacere Averti qua È stato un video Anche un po' diverso Dal solito Per me Perché io non faccio Mai Nulla di questo tipo Però Insomma La differenza A livello di gameplay Tra le due è così alta Che Cioè io dovevo fare un video con te Ma Bisognava inventarsi un contesto del genere E mi ha fatto un sacco piacere Vedere proprio come Vivi E cioè Sapere come vivi Poi magari un giorno ci conosceremo Però Insomma Grazie ancora Perfetto Direi che Possiamo Salutarci qui Ti ringrazio ancora Per il tempo che mi hai dedicato E ci si becca Alla prossima Signori Io come sempre vi ricordo Se volete resta aggiornati Su novità In merito a tutti i giochi Supercell Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E non dimenticate In descrizione Tutti i link per i social Soprattutto Instagram Che è molto Molto Importante Vi aspetto Con una prossima live Un prossimo video I prossimi giorni saranno Veramente Molto Movimentati Per chi non l'avesse capito Appunto Sui social Un salutone E Ciao ragazzi Ciao ragazzi